La situazione sanitaria è letteralmente drammatica, uso la parola drammatica perché è veramente uno sguardo surreale. Morti tantissimi, ospedali in tilt, una rete sanitaria estremamente carente di buchi, questa è la realtà e la realtà è questa. Siamo in zona rossa, questa pandemia ha provocato nella Marsica ulteriormente una catena di fragilità, di povertà, direi forte, molto, molto, molto forte, molto intensa. Dopo lo sguardo c'è un'opera di prossimità straordinaria che la diocesi sta operando in questo periodo. Una serie di iniziative, il fondo San Berardo, una prima tranche di 200.000 euro che sarà poi incrementato ulteriormente per venire incontro soprattutto alle persone senza tutele.